14.000 euro a testa è l'indennizzo accordato ai naufraghi della Costa Concordia. Dopo 16 ore di trattative, le principali associazioni dei consumatori e la Costa Crociere, assistita da Stoi Confindustria Viaggi, hanno stabilito questa cifra complessiva. Tale risarcimento non riguarda le vittime e i passeggeri feriti, per i quali è stato necessario effettuare trattamenti sanitari in loco. Per Costoro, l'indennizzo terrà conto della gravità del danno subito dai singoli individui. Per la Feder Consumatori è un importante risultato che varrà e potrà coinvolgere, come noi ospichiamo, i passeggeri con nazionalità di oltre 60 paesi, senza distinzione alcuna. Per la prima volta, inoltre, si è affrontato con soddisfazione e in termini extragiudiziali una questione così rilevante, in cui vengono riconosciuti non solo i rimborsi e non solo i danni patrimoniali, ma anche quelli per danno esistenziale.